Un bel ritrovato a tutti, un bel ritrovato a VR Camper, io mi trovo a Druento in Via Volta 29 e sono stata benevolmente accolta in una situazione di estremo comfort questa mattina da Fabio Carnino. Il comfort, la comodità che c'è qui da VR Camper è la stessa comodità di cui voi godrete viaggiando sui loro camper. Dico bene Fabio? Hai detto tutto in maniera perfetta. Insomma la vostra casa a quattro ruote vi aspetta qui in Via Volta 29, devo dire che oggi c'è tanta carne al fuoco come si suol dire, insomma c'è tanto prodotto e tanto noleggio anche. La flotta noleggio ricordo a tutti che è stata da poco rinnovata completamente, quindi qui da noi da VR Camper troverete un sacco di veicoli nuovi, appena immatricolati, super accessoriati per poter provare fisicamente il camper e capire effettivamente se può essere prossimo investimento da fare per affrontare al meglio le proprie vacanze, le proprie uscite domenicali o anche solo i semplici ponti corti che stiamo vivendo in quest'ultimo periodo. Quindi venite a toccarli con mano, a scoprirli da vicino e vi ricordo che tutti i veicoli in pronta consegna sono soggetti a delle promozioni decisamente particolari. Beh sono tante le promozioni che tu hai preparato, allora non ci resta altro che alzarci, allontanarci da questa comodità e andare a toccare con mano la qualità del vostro prodotto, state con noi. E a proposito di promozioni cominciamo a scoprire quelle di casa Carado per esempio. Parliamo di un Carado 447 ovvero un semi integrale di 7,39 metri di lunghezza che offre il posto a quattro persone sia a viaggiare che a dormire, un letto basculante anteriore, due letti gemelli sul posteriore, in promozione qui da VR Camper da 75.900 euro a solamente 72.000 euro. Andiamo in casa Imer e parliamo di un semi integrale più compatto e anche più maneggevole, più facile da guidare. Parliamo di un Imer Exis T580 ovvero un semi integrale estremamente compatto sia a livello di larghezza che di altezza. Piantina estremamente particolare, due letti gemelli sul posteriore che si possono prolungare e ottenere così un maxi letto posteriore. Anche lui veicolo in pronta consegna e soggetto anche lui appunto di promozione super vantaggiosa. Quindi venite a vederlo, a toccarlo con mano e a scoprire il miglior prezzo. Laica non significa solo Cosmo ma anche EcoVip quindi avete la scelta. Da quale parliamo perché sono belli tutti e due? Venite a trovarci che li abbiamo entrambi, abbiamo modo di vederli da vicino e di ammirare esattamente i dettagli che li caratterizzano. Il Cosmo sicuramente è una macchina un po' più leggera, senza doppio pavimento ma molto ben coibentata. Mentre un EcoVip parliamo di doppio pavimento, una coibentazione estremamente particolare del sottopianale. Quindi sicuramente è una macchina che ci permetterebbe di affrontare l'inverno in un modo decisamente più sicuro e confortevole. Li abbiamo entrambi in pronta consegna, entrambi con delle piantine molto ma molto particolari, molto richieste in quest'ultimo periodo dell'anno. Due letti gemelli su entrambe le soluzioni, letto basculante, parliamo di due motorhome ma non li abbiamo solo sul segmento motorhome ma li troverete anche in versione semi-integrale. E viaggiamo sempre alla scoperta del comfort di questi veicoli ricreazionali e che comfort sull'ammiraglia di casa Imer. Diversi sono gli esemplari qui in pronta consegna da VR Camper, vi parlo del binomio di casa Imer con meccanica Mercedes, trazione anteriore, cambio automatico, 170 cavalli di pura maneggevolezza e dell'estecità su strada. Venite a toccarli con mano a scoprire con noi tutti i vari dettagli che li caratterizzano, tutte le varie migliorie che sono state fatte negli ultimi anni per far sì di avere un veicolo estremamente confortevole ed estremamente dinamico su strada. Veicoli dai 7 metri ai 7 metri e 40 di lunghezza in patente B ma anche l'ammiraglia da 7 metri e 80 di lunghezza con letti gemelli il VMLI 780. E parliamo di van, di un mezzo alla portata di molti giovani, di tragitti anche avventurosi se vogliamo e devo dire che da VR Camper ce ne sono davvero tanti. Noi parliamo di questo però. Sì, lui è un Carado 4x4, trazione integrale appunto, su meccanica Ford, 170 cavalli, cambio manuale, è una macchina estremamente maneggevole, sicuramente molto più richiesta da un utente più giovane. La particolarità di questi veicoli è sicuramente la compattezza ma allo stesso tempo tutti i comfort riusciamo a mantenerli come se fosse un veicolo ricreazionale standard. Quindi venite a vederli, a toccarli con mano e a capire effettivamente quello che può essere la soluzione migliore per voi e ricordo il fatto che siano comunque sempre a noleggio. Quindi qualora uno lo volesse provare prima di acquistarlo qui da VR Camper lo potete fare. Ce ne sono tanti, noi ricordiamo anche gli altri brand, non solo questo. Non solo Carado ma altri brand che ci caratterizzano da anni sono appunto i Bussner Copa modello 500 e 530, quindi anche la versione più compatta senza bagno per chi volesse sostituirlo addirittura alla seconda autovettura. Come molti hanno fatto negli ultimi periodi. Furgonati con e senza letto a soffietto quindi sia per le due che per le quattro persone quindi come vi dicevo venite a vederli perché ne abbiamo veramente di tutti i gusti. Ed in chiusura ricordiamo le roulotte, io mi sono accomodata per apprezzare anche il comfort di una roulotte come questa per esempio. Come avrai potuto notare nonostante le dimensioni estremamente compatte di questa roulotte, poco più di 6 metri di lunghezza abbiamo un comfort all'interno, un'abitabilità eccezionale. A differenza dei camper lo spazio qui viene sfruttato veramente in ogni singolo millimetro. Parliamo di una soluzione estremamente particolare di casa Bussner, quindi una caravan tedesca con delle caratteristiche di base molto molto valide. Un ferro di cavallo come seduta che permette appunto come puoi vedere un'abitabilità senza precedenti, la possibilità di trasformare questo gruppo seduto in letto e poi un letto basculante sopra di noi che permette appunto il posto anche alla terza e alla quarta persona il tutto in 6 metri. Ebbene sì avete capito che la vostra casa ha quattro ruote proprio qui a Druento da VR Camper in via Volta 29. Alla prossima Fabio. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie.